L'iter per la realizzazione del nuovo polo universitario a Brindisi prosegue. Nei giorni scorsi c'è stata l'approvazione delle tre determine dirigenziali per disciplinare l'incarico per i servizi tecnici di progettazione e di fattibilità di tre dei lotti che compongono il progetto. Il più importante è che dovrebbe essere la sede centrale, l'edificio dell'ex Ministero delle Finanze e Agenzia del Territorio. Intanto la Regione spinge su questa iniziativa. Brindisi merita tanto, Brindisi è una città che è stupenda, tra le altre cose straordinaria, con il porto più bello secondo me d'Italia. Noi anche con l'offerta formativa con questa cittadella pensiamo che investire sulla cultura, sull'istruzione, vuol dire non solo aiutare la nostra città di Brindisi da un punto di vista sociale ma anche come sviluppo economico. Gli altri lotti compresi nel progetto sono l'ex Istituto Ragioneria Marconi di Via Maglie da destinare a mensa universitaria, la Chiesa del Cristo da destinare al luogo di culto e per i servizi culturali e l'edificio della Croce Rossa Italiana, sezione di Brindisi, da destinare a centro sanitario e postazione primo intervento del 118. Sì, i nostri giovani devono rimanere, la nostra offerta formativa in Puglia è eccellente, anche i nostri giovani lo sono.